Quando i progetti scolastici fanno sorgere collaborazioni durature e proficue, accade quello che è accaduto nel caso di Malmozzetto. La storica rappresentazione del condottiero riportata in auge dal sindaco di Prezza, Marianna Scoccia, è stata foriera della collaborazione tra la scuola, che ne ha curato costumi e bozzetti, e il comune, che ha donato una nuova macchina da cuscire all'istituto. Da oggi la sezione moda nel nostro liceo artistico è una macchina altamente tecnologica per la realizzazione degli abiti. Grazie al progetto Malmozzetto, grazie al comune di Prezza e al sindaco Marianna Scoccia, dice la dirigente Catarina Fantauzzi. Malmozzetto non è solo spettacolo, aggiunge il sindaco Scoccia. In due anni abbiamo cercato di coinvolgere l'intero territorio della Valle Peligna, perché tutto può partire anche da un piccolo paese come il nostro, e aver potuto dare al liceo artistico di Sulmona la possibilità di acquistare un macchinario altamente tecnologico per me è stato importantissimo ed è motivo di orgoglio. Continuerò ad investire sulle nostre scuole perché i nostri ragazzi rappresentano il nostro futuro.